Nancy Brilli sta male, l'attrice, a letto con l'influenza, condivide tutto sui social. Ancora influenzata con questa voce da orco. Vabbè. Quanto dura l'influenza? Quattro giorni? Mannaggia. Che poi mi fa molto ridere la voce. Sono doppiata da un uomo, praticamente. Che poi a voi capita di avere dei pensieri orripilanti. A me sì. Quando non sto bene a me sì. Nancy, guarisci presto perché questo 2024 ti aspetta.